Mi chiamo Carla Novelli e vengo da Roma, vivo a Roma e sono qui a Chilarni per un periodo di studio ed esercizio dell'inglese presso la scuola di Chilarni School of English. Frequento delle lezioni di livello avanzato con un insegnante che ho trovato molto bravo e anche in grado di mantenere attenti gli studenti che hanno livelli leggermente diversi in conseguenza della provenienza e delle diverse attività ma comunque compatibili di modo che le lezioni possono essere tenute in inglese in una maniera che è soddisfacente e anche divertente. I miei ragazzi frequentano una scuola per teenager dove c'è una maggiore attenzione al fatto di farli divertire e sono in un contesto internazionale dove hanno la possibilità di cominciare davvero ad attivare la lingua inglese che hanno già studiato in Italia. Viviamo presso una famiglia a una decina di chilometri dalla scuola che ci ha dedicato molto tempo ed attenzione e parlare con loro è stata una delle cose più positive della mia esperienza a Chilarni e in generale direi che è stata un'ottima esperienza e la consiglierei a chiunque.